... Sa, una volta ero su un aereo, me ne stavo seduto e... Il capitano attacca la solita storia, tipo voleremo a un'altezza di 10.000 metri, ma poi posa il microfono e dimentica di spegnerlo. Si gira verso il secondo pilota e se ne esce con... Ora vorrei tanto un bellissimo pompino e una tazza di caffè. Allora l'hostess si precipita come un fulmine dal fondo dell'aereo per dirgli che il microfono è ancora aperto e si sente una voce... Ehi tesoro, non dimenticarti il caffè! Sei mai stato su un aereo? No, ma è una barzelletta, funziona meglio se si racconta in prima persona. Ah sì, è vero. Io ho scopato, sa? Davvero? Buon per te. Alla grande, alla grande. Alla grande? Sono uscito con una giorni fa. Com'è andata? Molto bene. E la rivedrai? Non lo so. Perché no? Non l'ho chiamata. Cristo, sei un dilettante. So quello che faccio. Ah sì? Sì. Non si preoccupi per me, so quello che faccio. Sì, ma questa ragazza, insomma, è bellissima, intelligente, divertente. È diversa dalle altre con cui sono stato. E allora chiamala, Romeo. Così mi rendo conto che non è poi tanto intelligente che mi rompe i coglioni. Sì, insomma, ecco, questa ragazza, cazzo, è perfetta. Ora non voglio rovinare questo. Forse tu sei perfetto. Ora forse è questo che non vuoi rovinare. Questa la chiamerei una super filosofia, Will. Così puoi in effetti passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno. Mia moglie scorreggiava quando era nervosa. Aveva una serie di meravigliose debolezze. Aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questa cosa. Una notte fu talmente forte che svegliò il cane. Si svegliò anche lei. Si è stato tuo, io sì, non ho avuto il coraggio. Si è svegliata da sola. Oh, signore. Ma Will è morta da due anni e questo è quanto mi ricordo. Momenti stupendi, sai, piccole cose così. Però sono queste le cose che più mi mancano. Le piccole debolezze che conoscevo solo io. Questo la rendeva mia moglie. Anche lei ne sapeva di belle sul mio conto, conosceva tutti i miei peccatucci. Queste cose la gente le chiama imperfezioni, ma non lo sono. Sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi far entrare nel nostro piccolo strano mondo. Tu non sei perfetto, campione. E ti tolgo dall'incertezza. La ragazza che hai conosciuto non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete o no perfetti l'uno per l'altra. È questo che conta. È questo che significa intimità. Puoi sapere tutte le cose del mondo, ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità. Certo non l'imparerai da modo incoglionito come me. E anche se lo sapessi non lo direi a un piccione come te.